E' così Phobos è stato confinato nell'ombra e nella disperazione. Sì, ma non illuderti. Non troverai Deimos altrettanto accomodante. La seconda parte della forza vitale di Roma è stata restaurata. La potenza della nostra grande madre sta tornando. Il nostro grande padre Giove è compiaciuto. Ti attende una sfida. Se la supererai, potrai fare ricorso al suo immenso potere. Grazie a tutti. Non hai ancora trovato tutti gli oggetti, Trax? Dove li avrò mai nascosti? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La tua missione procede bene, Trax. Hai dimostrato forza, coraggio e onore, virtù proprie dei Romani. La tua missione procede bene, Trax. Hai dimostrato forza, coraggio e onore. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 La morte è giunta per te. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.